Guarda questo Paolo, sei tu da piccolo Nonna, che cos'è esattamente un rapporto sessuale? Oh santo cielo Vaffanculo, negro! Oh sì Nonno, questa mattina all'angolo della strada ho visto due cani Sei una troia Prima di tutto Non me ne frega un caccio E inoltre ho subito voglia di succhiare il canto del tuo papà Quando ero piccola volevo sposare mio papà Ma così o no? Grazie